Hai tirato giù la corrente, non è che è spento la live Ciao Rachele, ciao! Ah ma sei proprio tu la ultraottantenne preferita degli Agenders Hai ancora capito che Marco ha visto il futuro, lui vede tutto È il gigante d'attacco Marco Merrino È finita? Non lo sai? Che cosa? È finita Cosa è finita? L'epopea Hai smesso? Non l'ho mai visto attaccontata Sei serio? Non l'hai mai visto attaccontata? Quindi per tutto questo tempo ci hai preso in giro? Sì E io non farò più scherzi Il titano bolle, tutta quella roba là quindi era finta Non c'è veramente nel manga No No È stato solamente uno scherzo per vedervi indispettiti E io ci ho pensato spesso Ho pensato forse Forse sono voglioso di troppo amore Quando vedo che lo mettono in qualcos'altro Forse è gelosia Voglio che il riflettore sia sempre su di me E quindi volevo sentirmi parte di una famiglia Alla quale però io ho deciso volontariamente di non farne parte Giorgio Romeo è diventato un bannatino Perciò scusatemi per gli spoiler Scusate per uno scherzo È andato veramente troppo a lungo E Ora è finita Mi dispiace anche essermi perso uno di quelli Che a detta vostra è uno dei più bei anime che esistono Non riesco minimamente a prenderti sul serio Niente, proprio zero Anche se forse lo sei, non lo so Non riesco a percepire Sul serio? Basta battute Io ho 23, grazie mille del supporto Questa qua è una catapulta di auguri Voglio dire non ti credo Ho detto che io scherzavo Hai detto che ho scherzavo? Io non mi sono mai visto a Taccontana ragazzi Se pensate che io me lo sia visto in realtà Cavoli vostri, io non me lo sono mai visto Molto strano perché alcuni spoiler che hai fatto Sono veramente molto attendibili a livello manghistico Questo è perché basta guardare Ciao Pippo No questa non è una bugia Io veramente, credetemi ragazzi Credetemi sulla parola Io ho veramente fatto finta per un anno intero Di conoscere la trama di Attack on Titan Ma penso che siamo tutti d'accordo E tramite dei video O dei summari O delle puntate che effettivamente mi sono visto con loro O unito puntini Alla fine sono un adulto Quindi riesco a ragionare anch'io anche perché è un'anima Non è niente di che Sì vabbè finiamo dopo domani Tutto qua Quindi perdonatemi Vabbè ma sicuro ti perdoneranno Non è che hai sfracellato il cazzo per più di un anno Con questa roba qua hai fatto odiare a tutti Un'opera incredibile Sei veramente il peggiore in assoluto Pronto? Pronto?